sei riuscito a trovare tutte le gemme è incredibile ma i cristalli non sono l'unico modo per catturare l'energia dei pianeti anche le gemme possono farlo con esse io posso distruggere forte forte per sempre fatti trascoltare nella mia installazione laser oi 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 lo tu Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.